Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agneso e Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11, code a tratti per traffico verso Pisa tra Monte Catini Terme e Lucca Est. In Fipili permangono rallentamenti per traffico in direzione mare tra Ponte d'Era Est e BVOSGC Fipili di Ramazione Pisa. Regolare il traffico altrove. Con sguardo al traffico urbano di Firenze, nell'ambito dei cantieri tramviari per la linea Fortezza Piazza della Libertà a Piazza San Marco, domani 13 marzo cambia la canterizzazione in Piazza San Marco. Le lavorazioni andranno a interessare la parte centrale della piazza. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Siamo al traffico aereo, il volo Firenze-Amsterdam delle 13.50 è segnalato in partenza e in ritardo alle 14.40. Quello diretto a Parigi delle 19 quest'oggi è cancellato. Da Pisa il volo diretto a Dubai delle 13 è segnalato in partenza con due ore di ritardo alle 15.00. Questi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.